Mio Dio, mio Dio ragazzi, Roma 1, Salernitana 2, post partita che non era assolutamente in programma, sono riuscito, sto riuscendo a registrare perché alla fine ho dovuto cambiare dei programmi e alla fine sono riuscito a vedermi questa partita. Il fatto sta che intanto vi anticipo due cose, che domani, e questa è una certezza, non riuscirò perché sono in aereo, perché sono in volo a portarvi due post partita del lunedì, Torino, Cagliari e Bologna mia, mi sarebbe piaciuto guardare il Mian perché è una squadra che mi incuriosisce tanto ma purtroppo non potrò, non potrò, ma vi dirò, mi ritengo già soddisfatto di portarvi questo post partita perché non eravamo anche in programma. Parlando della partita, devo dire la verità, non mi aspettavo la vittoria della Salernitana, io sto registrando questo video intorno all'82esimo ma non credo ci saranno i gol live, però ragazzi la Salernitana al momento sta vincendo per 2 a 1 contro la Roma. Che partita abbiamo visto? Intanto abbiamo visto una Roma che secondo me è partita molto bene, ha avuto un approccio alla gara positivo, ha avuto un approccio alla gara positivo. Infatti la Roma già al settimo minuto ha trovato la via del gol con una palla al bacio di Cristante Belotti, grande controllo ma era in fuorigioco per veramente niente. Chiaro che quando riguarda i fuorigioco questi fuorigiocchi sarebbero da eliminare, c'è anche da dire che però quando chiaramente un calcio a tre è in fuorigioco è fuorigioco. Quindi da una parte quando un calcio a tre è in fuorigioco è in fuorigioco e basta, dall'altra però sono tutti fuorigiocchi veramente di un millimetro. Cioè ormai il VAR è sempre al centro dell'attenzione, ormai ci sono più gol che ormai si vanno a controllare al VAR, non so parlare, piuttosto che più gol senza bisogno di un controllo necessario. Questo vuol dire che al giorno d'oggi si calcolano veramente i millimetri e quando ti capita a te ti dà un fastidio incredibile, quando capita all'avversario, questo magari è fuorigioco, tu godi. Chiaro che la Roma appunto aveva segnato con Belotti che aveva pure trovato il suo primo gol annullato, poi la Roma aveva ancora una volta segnato sempre con Belotti e stavolta il gol è valido. Bel lancio lungo di Llorente, stavolta con Belotti non aveva fatto un gran controllo, un grande aggancio, però la difesa sanitana, Lovate e Fazio erano posizionati veramente malissimi, un primo tempo disastroso secondo me di Fazio. La difesa sanitana era piazzata male e Belotti è riuscito a trovare la lette che è in basso appunto il gol per la Roma. Da quel momento lì la Roma ha continuato ad attaccare, la Roma si è affidata molto a Spinazzola, è andata molto sulla corsa di sinistra con una UAR che si vede che era una tecnica differente dagli altri. E infatti la Roma è andata anche vicino al 2-0, pensa al calcio angolo di UAR colpita di Simancini parato con una 10-0 a Portierone. Portierone è incredibile, di cui si parla veramente troppo poco. Da quel momento lì, da quando la sanitana ha iniziato ad attaccare, la Roma per tanti minuti non ha capito niente. Perché la sanitana aveva trovato con il suo primo tiro in porta, tra l'altro la sanitana stava giocando male, non mi stava facendo, centrocampo completamente asfaltato. Poi quando la sanitana ha trovato l'1-1, si è sciolta, si è sciolta. E appunto quando ha trovato l'1-1 con Grandreva, Grandrebling su Smalling e Grandgol, da quel momento lì la Roma ha fatto una fatica bestiale. Infatti il fine del primo tempo è andata nettamente incalando, all'inizio del secondo tempo la sanitana era la squadra che stava facendo la partita con la Roma entrata male in campo. Con spesso anche la sanitana che andava a sinistra, con senz'altro non una, secondo me, una buona partita di Christensen che ha sofferto più volte Bradric nel secondo tempo. Anche Spinazzola ha fatto molta fatica contro Grandreva, che è un giocatore che merita assolutamente di giocare in squadre più forti. Ma non lo scopriamo in certo oggi, è quel giocatore che ti fa innamorare questo sport, tutti quei kidi lì, angolati, è un giocatore incredibile. È un giocatore che in qualsiasi squadra farebbe bene, secondo me. Appunto il 2-1 era un gol incredibile. Cambio ai giochi di Bradric, gran stop di Grandreva, tira a giro col sinistro e l'ha messa all'incrocio. Uno dei, secondo me, per quanto riguarda questa prima giornata, sarà difficile fare un gol più bello di Grandreva. E dopo quel 2-1 lì, la Sanità ha anche provato a fare il 3-1, ma senza creare chissà quante occasioni. E poi però è arrivato il momento in cui la Roma ha reagito. Penso al palo di Esciarawi, dopo l'ingresso di Renato Sanchez, che si vede anche lui, è una tecnica importante. Anche se è un calciatore su cui nutro diversi dubbi, è entrato Paredes, tra l'altro dare la 16 a Paredes di De Rossi è una bestemmia calcistica. Perché non è minimamente paragonabile a Paredes a De Rossi. Questa è un'altra parentesi. Però è una Roma che, ragazzi, si vede che senza Di Bala una squadra, con Di Bala una squadra. Io credo che tutti i tifosi da Roma in questo momento debbano fare un monumento a Paolo Di Bala. Cioè, io, Di Bala, se fosse nella Roma non lo darei manco via 150 migliori, per non giocare di cui la Roma non può farne a meno. Perché senza Di Bala la Roma è una squadra anche dal decimo posto. E non sto scherzando, con Di Bala è una squadra completamente differente. Belotti ha fatto bene all'inizio, poi si è spento. E purtroppo, diciamo, la Roma non riesce molto a tirare. Cioè, perché altro perché non sta creando molto. Non sta creando molto, non sta tirando molto, ecco. Però che la Charavan è un giocatore forte, ma oggi ha fatto più fatica del solito. Christens non mi è piaciuto. Spinezzola, idem. Tra l'altro è uscito con Fischi. Quindi, boh, nutro da tante belle pressità. Per quanto riguarda, sinceramente, la Roma di questa stagione. Io, tra l'altro, tra l'altro, ha segnato Belotti. Cioè, non ci credo. Quando registrata ha segnato Bellotti, cioè, ha segnato il Gallo Belotti, doppietta per lui. Che in realtà sarebbe stata una tripletta, con il live. Però la tripletta è stata annullata, cioè almeno il primo gol perché è un offside. Quindi adesso mi vado a recuperare questo gol e poi ci vediamo. Mi sono appena andato a recuperare il gol ed è stato il classico gol della Roma. Sul calcio piazzato, calcio angolo battuto benissimo da Leandro Paredes. Cross colpi testa di Belotti che ha trovato il 2-2. Siamo negli ultimi minuti finali. Non credo ci sarà un altro gol. Anche se può succedere di tutto. Non escludo niente. Ho visto anche che l'Atalanta ha segnato negli ultimi minuti contro il Sassuolo. E vabbè, non ho visto la partita, quindi non so dirvi nulla per quanto riguarda l'Atalanta. Quello che è sicuro è che, ragazzi, la Salernitana esce in campo dall'Olimpico con una grande prestazione. Con una grande partita. Anche, per esempio, Koulibaly ha fatto una gran partita. Bradaric mi è piaciuto. Kandreva ha MVP. Non mi ha fatto impazzire Boteim perché è un giocatore che mi sembra molto acerbo, banalmente. Così come Castanoss, così come la difesa per Boteim. Insomma, la Salernitana ha una rosa costruita bene con un allenatore che mi ha sorpreso tantissimo. Paolo Sousa che, sinceramente, non mi piaceva. Cioè, Paolo Sousa va fallito, prende dovunque andata, alla Salernitana si sta rilanciando. Quindi, tanto di cappello alla Salernitana. Il fatto sta che, a meno di clamorosi colpisce, a meno che prendiamo un po' se c'è qualcosina, ragazzi. Sì, no, 2-2, no. Niente, non dovrebbero esserci colpi scena. La Roma pareggia per 2-2 contro Salernitana. Noi ci vediamo stasera con il post-partite della Juve.